Ciao a tutti, sono Giorgia Nicoli, oggi sono in compagnia dei Pappis e mi hanno offerto di intrufolarmi nei loro video. Vi spiegheranno il video. Ciao ragazzi! Ciao! Allora, oggi andremo a parlare dei pranzi di Natale, di tutte quelle cose che succedono quando tu, dopo Natale, devi prendere la vita quotidiana, quindi ingrassi, ingrassi, ingrassi. E quindi vi parleremo dei rimedi per sopravvivere ai pranzi di Natale dopo che sei ingrassato di bruttino. E iniziamo subito con questo video! Fatti così! Il primo rimedio per superare questi pranzi di Natale è bere almeno un litro d'acqua per ogni pasto. Eh, mamma! Ci stava. Ma perché stai bevendo tutta quest'acqua? A che domande fai? Sono i rimedi della nonna. Come fai a non saperlo? Fa dimagrire! Scusami, eh! Il secondo metodo è fare una dieta prenatalizia, perdere tutti i chili prima, così quando ci saranno i pranzi, ringrassi e si è di nuovo molto preso a forma. Il terzo metodo per superare i pranzi di Natale invece fai 20 minuti di corsa al giorno per perdere i chili che hai assunto nei giorni precedenti. Allora, amore, 20 minuti di corsa e... Ma perché 20 minuti di corsa? Perché? Perché così dimagriamo! No, non dimagriamo così, 20 minuti sono troppi, amore, lo sai? 20 minuti! Che palle, oh! Amore, fa bene che ce la faccia più! Dai, dobbiamo farlo, perché sennò non smaltiamo quello che abbiamo mangiato per Natale, per Capodanno, per la Befana. Non ce la faccio! Bene ragazzi, questi qua sono i tre metodi principali. Se avete degli altri metodi, diteci di qua sotto, perché abbiamo intenzione di usarli, questi metodi, allora riusciremo un po' a fare l'acchio. Perché io a Natale, ad esempio, ingratto talmente tanto che voi dopo sono... no, adesso sono magro, però non mi vedete più magro, mi vedete una botte, e tu già ho qualcosa da dire. Merito? No, niente, mangiate tanto! Mangiate tanto, sì, giusto! Mangiate tanto! Divertitevi, state in famiglia e... Buon Natale a tutti ragazzi e buone feste! Ciao! Iscrivetevi al nostro canale e al suo che vi lasciamo... Fatecelo e al suo! Come regalo di Natale, iscrivetevi al suo canale e al nostro canale! Ciao ragazzi! Ciao! 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 Ciao!